Come vedreste Hugh Jackman nei panni di The Mask e Jim Carrey nei panni di Wolverine? I due attori ci hanno dato un assaggio ironico di questo surreale scenario punzecchiandosi sui social network. A dare il via alle danze è stato Jackman che qualche giorno fa su Instagram ha pubblicato un video d'up smash in cui doppiava proprio The Mask, il personaggio interpretato da Jim Carrey nell'omonimo film del 1994. Jim Carrey, amico, sto facendo del mio meglio per provare a renderti giustizia, commenta Hugh, ovviamente avrei dovuto restare nel mio. La risposta di Jim Carrey è arrivata a mezzo Twitter, con una foto in cui l'attore canadese si traveste a modo suo da Wolverine. Bella mossa Hugh Jackman, cinguetta Jim, ora guardami mentre mi impegno a interpretare il tuo ruolo più importante. Sono stato decisamente sconfitto da Jim Carrey, ha risposto Hugh, questa è stata bella. E voi per chi ti fate?